Chi non può cambiare la vecchia auto inquinante ma ne ha necessità per spostarsi non è costretto a lasciarla ferma. Può infatti aderire al progetto Movin, che consente di avere a disposizione un numero limitato di chilometri pagando una quota annuale in base all'anzianità del veicolo. La deroga non vale nelle domeniche ecologiche e nei giorni di misure emergenziali. Sono 6.400 gli abitanti della regione Emilia Romagna che in un anno ne hanno fatto richiesta. Su Piacenza non abbiamo i dati disaggregati perché per una questione di privacy la regione li fornisce unitari e nasce dall'esigenza di cercare di coniugare una mobilità sostenibile con l'aiuto a chi magari non è in grado di cambiare l'auto. Quindi la possibilità di dare un tot di chilometri utilizzabili anche nei momenti di restrizione per potersi comunque muovere in quelli che sono gli spostamenti consapevoli e necessari. Sul fronte mobilità sostenibile quali sono le principali azioni che il Comune sta portando avanti? Allora un rilancio del pedibus che in questi ultimi anni anche complice il Covid aveva un attimo rallentato le iscrizioni quindi stiamo lavorando molto con le scuole e con i mobility manager delle scuole per riattivarlo il più possibile. Un rilancio per l'anno prossimo del back to work che fino a ottobre è stato in vigore poi si è interrotto e adesso stiamo cercando di riprenderlo e farlo ripartire e poi delle azioni a lungo termine su quelle che sono le ciclabili quindi una mobilità davvero sostenibile. Ad esempio abbiamo vinto recentemente un bando regionale siamo arrivati quarti su più di 90 per quella che sarà un pezzo di ciclabile che unirà il centro città con il lungo Po. La pista ciclabile che collegherà via Cavour al fiume Po potrebbe essere completata entro la fine del 2025. Grazie. 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 Grazie.